Io credo che si sia fatto purtroppo un po' di confusione rispetto ai contenuti del decreto, perché nel decreto c'è scritto che il cosiddetto coprifuoco fino al 15 giugno sarà alle 22, però c'è una clausola. Questa clausola dice che sulla base dei dati, quindi del numero dei contagi e delle vaccinazioni, queste restrizioni possono essere riviste ed infatti che cosa succederà? Succederà che a metà maggio si vedranno i dati e si deciderà che cosa fare. Io auspico, come è successo l'anno scorso, che a un certo punto il cosiddetto coprifuoco alle 22 venga eliminato. E sicuramente sarà così, perché comunque andiamo verso la bella stagione e i contagi in questo momento ci dicono che le cose vanno meglio e la campagna di vaccinazione sta procedendo. Ieri abbiamo superato i 16 milioni di italiani vaccinati, per cui credo che tutto questo ci possa far ben sperare. Dal 26 riapriranno le attività di bar e ristoranti all'aperto. Ovviamente sono passaggi graduali, perché ancora i dati di ieri erano 16 mila contagi e oltre 300 morti ci dicono che serve cautela, per cui passo dopo passo riusciremo a fare una stagione estiva come abbiamo fatto l'anno scorso. Ecco, ha citato la campagna vaccinale. Nello specifico delle Marche, tanti argomenti in questo ultimo periodo, dal balletto sulle cifre contestabili o meno, come è la sua valutazione in tal senso? Io credo che la campagna vaccinale nelle Marche poteva essere gestita con una informazione più corretta e con una organizzazione sul territorio migliore. Mi riferisco in particolare ai cosiddetti centri vaccinali che mancano ancora nelle aree più lontane dalle città. Ci sono anziani che sono stati costretti e sono ancora costretti a spostarsi per decine e decine di chilometri con tutto quello che sappiamo in termini di difficoltà. C'è stato anche un balletto nei numeri che ovviamente ha creato anche una serie di polemiche. Noi ora siamo l'opposizione in ragione per cui facciamo il nostro lavoro, cioè cerchiamo di chiedere chiarezza su ogni singola questione. Mi auguro che la campagna comunque possa proseguire e possa arrivare ad un numero di vaccinazioni che ci consenta anche in questo caso per quello che riguarda il nostro territorio di riaprire gradualmente con quello spirito prudente ma anche con quell'ottimismo visto che siamo una regione che ha un'incidenza del turismo importante per cui insomma dobbiamo essere tutti quanti responsabili ma anche diciamo pronti a riaprire e a ospitare tutte quelle persone che vorranno visitare la nostra provincia, la città di Pesaro e la regione Marche in generale.